Lorenzo Manzi, oggi non possiamo certo arrabbiarci per la prestazione della squadra, ha sottolineato addirittura anche Paolo Indiani, ha detto che questo follone a Cavorano ai punti avrebbe meritato qualcosa in più, però è arrivata una sconfitta che vi taglia per il momento fuori da giochi per la prima posizione. Oggi battiamo le mani a Buzzegoli, il gesto tecnico non ha fatto, battiamo le mani però anche primissimi ai nostri tifosi, oggi presenti ai ragazzi del settore giovanile e anche ai nostri ragazzi perché non c'è niente da dire sulla prestazione, hanno fatto una gran partita, il motivo è quello di tutto l'anno, creiamo tanto e segniamo poco, c'è da lavorare, c'è da migliorare, probabilmente non dobbiamo, il campionato ha preso una piega diversa dalle aspettative che lo staff aveva in queste ultime settimane, ma dobbiamo dare il massimo per arrivare più in alto possibile. In tribuna mentre andava via suo padre l'ingegnere Manzi, Luigi Manzi ha detto mi sono divertito, è stata una bella partita. Sì sì, ma infatti ripeto, forse l'amaro di oggi c'è perché non c'è con chi arrabbiarsi, i ragazzi sono stati bravi e loro hanno fatto una giocata che poi è il bello del calcio, noi non abbiamo in questo momento né la capacità di concretizzare tutte le occasioni che creiamo né la capacità di creare una giocata singola che ci possa indirizzare la partita, quindi battiamo le mani al San Donato, al mister indiano in bocca al lupo. Domani prossimo, altro big match ad Arezzo. Sì, penso che domenica sarà una bella partita, soprattutto perché immagino ci sia un po' di dento avvenato per la prestazione dell'andata, quindi è fondamentale capire quanto di buono abbiamo fatto oggi per ricaricare le batterie e affronteremo una partita difficilissima. Una squadra che a mio parere, nonostante tutti i cambiamenti ci sono stati, si è rinforzata e quindi troveremo ancora una carrazzata ancora più forte della partita d'andata, quindi dobbiamo rimboccarci le maniche e ritirare fuori quella cattiveria che ci aveva tanto addistinto nella prima parte della stagione.